salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo con il terzo giorno di allenamento alleneremo dorsali e spalle ragazzi cominciamo con la machine ovviamente quattro serie per 5 ripetizioni 44 kg prima però ci pesiamo ragazzi 59.80 kg due giorni di dieta e abbiamo salutato 800 grammi ragazzi incredibile vabbè grasso corporeo ovviamente comincia la scalata verso il basso 13.7 rispetto all'episodio scorso abbiamo perso 700 grammi 0,9 per cento di massa grassa ovviamente ragazzi adesso l'app machine al triangolo faremo quattro serie per dieci con tre ragazzi come quarto esercizio abbiamo remotore singolo al cavo basso faremo tre serie per dieci con 20 kg 3 serie per 8 10 ripetizione grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei benultimo esercizio pull e basso ragazzi quattro serie per 4 serie per 8 4 per 8 40 kg ovviamente ragazzi ultimo esercizio stacco con 90 kg ragazzi 3 serie per 5 ripetizioni ci vediamo all'esercizio ovviamente ragazzi finiti i dorsali ragazzi con le spalle militari press 3 serie per 5 38 kg adesso ragazzi alzate frontali al cavo basso ovviamente invece di 6 kg 8 kg ovviamente 3 serie per 10 kg ovviamente 3 serie per 10 kg tagli衝endo per corno ragazzi alzate frontali al cavo basso ovviamente diciamo in ragazzi adesso laterale dopo le frontali ovviamente 3 serie 10 con 6 kg quindi più due anche qua no ragazzi eccoci qua anche laterali fatti ovviamente adesso alzate posteriore capopasso singolo 10 chili per braccio credo possono bastare anzi forse sono anche troppo comunque proviamo così faremo tre serie 10 vi ricordo ragazzi che sono in fase di definizione quindi sto facendo dieta ho perso già 700 grammi in due giorni ho perso 700 grammi incredibile ragazzi ci vediamo all'esercizio un'esercizio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.